Pace bene a tutti, bentrovati anche oggi, il 9 febbraio, e ricordiamo il beato Leopoldo d'Alpandeire. Ascoltiamo la sua storia. Francisco Tomas nasce ad Alpandeire, nella provincia di Malaga, nella Spagna meridionale. Era un pastorello con la corona del rosario sempre in mano, non la lasciava nemmeno quando coltivava la terra. La sua vocazione nacque dopo aver ascoltato la predicazione di due cappuccini, nel 1894 a Ronda. Vestì l'abito nel convento di Siviglia, a 35 anni, cambiando il nome da Francesco a Leopoldo. Dopo la sua prima professione, si dedicò all'orto nei conventi di Siviglia, Antequera e Granada, dove emise i voti perpetui il 23 novembre del 1903. Quando divenne l'emosignere, fu l'occasione di contatto con uomini di varia umanità. Caricava su di sé i fardelli degli altri ed era sempre pronto a servire, comprendere, aiutare ed amare. Camminava per le strade a piedi nudi, sgranando il rosario e con lo sguardo rivolto verso il cielo. Il suo vice postulatore, padre Alfonso, nelle testimonianze raccolte, affermò che ogni volta che riceveva un elemosino recitava tre Avemarie e il solo sentirlo pregare, faceva venire i brividi. Subì la persecuzione spagnola, ricevette insulti e minacce di morte. Quasi tutti i giorni lo prendevano a sassate e un giorno sfuggì alla lapidazione solamente perché un uomo intervenne in sua difesa. Nel 1953 si fratturò il femore cadendo dalle scale. Riprese a camminare con l'aiuto di due bastoni. Frate Leopoldo morì il 9 febbraio del 1956 e molte furono le persone che si recarono a Granada per l'ultimo saluto. Ancora oggi la visita al suo sepolcro non si è interrotto. Il suo vice postulatore affermò che fra Leopoldo testimoniò il mistero di Cristo povero e crocifisso con l'esempio e la parola, al ritmo umile e orante della vita quotidiana. Numerose sono le grazie attribuite alla sua intercessione. La sua causa di beatificazione si aprì nel 1961 e Papa Benedetto XVI a Granada lo dichiarò beato il 12 settembre del 2010. Beh, del beato Leopoldo si rimane un po' così perché la sua storia non è una storia di grandi cose, di grandi opere o una santità di quelle che insomma ci confondono per i prodigi, per come li possiamo intendere. Il suo prodigio è il prodigio della semplicità, di una vita spesa nell'umiltà, nell'orto, una delle sue prime mansioni, nella portineria e nel servizio della questua che gli fu affidato, un servizio prezioso che gli ha consentito di entrare proprio nell'anima e nel cuore della società e delle persone proprio nella loro intimità. E beh, diceva il ministro generale dell'ordine su di lui a quel tempo, proprio parlando del beato Leopoldo, è indubitabile che fra Leopoldo, incontrandolo, affascina da subito per il suo essere semplice, naturale, senza artifici, sincero e retto, evangelicamente povero. Un povero credente e candido, semplice e discreto, che ha saputo sempre mettersi in secondo piano, servendo nell'anonimato e nell'umiltà. Quante belle parole per questa persona e preghiamo il beato Leopoldo affinché possa sinceramente donarci una di queste sue caratteristiche e di rendere la nostra vita santa e speciale, proprio nel servizio delle cose semplici di ogni giorno. Beato Leopoldo prega per noi.